Ciao a tutti, mi chiamo Daniele Notaro e sono molto contento, molto orgoglioso di aver potuto realizzare un'immagine creativa, artistica per un brand italiano molto importante che è Gaggia Milano, in occasione di un anniversario altrettanto importante di un loro prodotto Icon, Gaggia Classic, che rappresenta l'espresso italiano nel mondo. Appena mi è stata presentata l'idea e il progetto ne sono rimasto subito molto entusiasta, un'idea bellissima, molto creativa, quella di creare un parallelismo tra l'homo barista e l'acrobata, questa figura divertente, fatta di forza, equilibrio, precisione e quindi è stata una bella sfida mettere insieme questi due personaggi e quindi trovare la persona giusta che rappresentasse queste due anime. Dopo un bel lavoro di squadra e di progettazione abbiamo realizzato uno shooting molto divertente, è stata una giornata interessante, impegnativa e sono molto contento dell'immagine che abbiamo realizzato, molto soddisfatto e ringrazio Gaggia per avermi dato questa bellissima opportunità di raccontare questo anniversario importante di Gaggia Classic attraverso le mie immagini.